Visitare un sito culturale può trasformarsi in un'esperienza unica e interattiva grazie al supporto di un sistema integrato di tecnologie avanzate. È l'obiettivo del progetto Viaggiarte, un modello innovativo per la fruizione del patrimonio culturale regionale, basato sull'integrazione di tre momenti che utilizzano tre applicativi tecnologici. Si parte con l'esperienza fuori dal sito, le tecnologie di visione virtuale sviluppate per i videogiochi interattivi proiettano l'utente all'interno dell'area. Il secondo momento è la visita del sito culturale, accompagnata da un'applicazione per smartphone che consente di approfondirne la conoscenza ed infine il sito web su cui raccontare e condividere la propria esperienza. Allo scopo di poi avvicinare le persone al sito reale, in questo caso il sito delle fontanelle, dove noi abbiamo installato delle piccole paline con delle locandine che sfruttando un'app che noi abbiamo realizzato e che si scarica liberamente al sito Google Play, permette di, inquadrando queste paline, di vedere dei contenuti virtuali, delle immagini in realtà aumentata, che partono sul telefonino e spiegano alcuni personaggi che sono tipici di quel luogo, la storia di quel luogo, cosa è stato fatto per sistemarlo, eccetera. La sperimentazione di viaggiarte parte in città con il Cimitero delle Fontanelle, l'antico ossario che si trova nel cuore del quartiere Sanità. Fino al 5 gennaio si potrà vivere un'emozionante esperienza del sito, attraverso un visore tridimensionale presso la stazione della metropolitana di Piazza Municipio. Il Cimitero delle Fontanelle è oggi diventato uno dei volani turistici di Napoli più importante, ma è stato nel tempo un luogo di devozione e di religiosità. E quindi senza nulla togliere a questo mistero, a questo fascino e a questa suggestione, ora viene in qualche modo attraverso la ricerca e le nuove tecnologie, non solo reso meglio fruibile, spiegabile e visitabile per i nostri concittadini, ma può essere veicolato con questi nuovi strumenti dei media a livello globale con grande facilità.